Per inciso non preoccupatevi per quel lupo affamato, se è aggrappata a un arbusto e non morirà di fame, perché quell'arbusto fa delle bacche ogni autunno. Come facciamo a raggiungere la nostra porta con questi giocattoli davanti? Le dispiace farci passare il popotama? Beh, non credo che voglia farci passare. Per inciso non preoccupatevi per quel lupo affamato, se è aggrappata a un arbusto e non morirà di fame, perché quell'arbusto fa delle bacche ogni autunno.